Com'è strana la vita. Io stasera festeggio 40 anni di matrimonio. E voi tra qualche minuto divorziate. Let me ask you a question. Quando avete smesso di amarvi? Non abbiamo mai cominciato. Tu parla per te. Ma smetti, ma mi conoscevi appena. Invece mi ricordo benissimo la prima volta che ti ho vista. Avevi dei jeans corti, una maglietta a righe e i capelli rosa e facevi di tutto per sembrare un altro e piacere agli amici tuoi. Però poi alla fine li hai mollati e sei venuta con me. Perché? 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 Perché eri carino. E mi facevi tenerezza. Stavi lì tutto da solo. E poi avevo 18 anni e volevo divertirmi. È un crimine, signor giudice? Uccidere una storia d'amore è un crimine. O no, giudice? Ben detto. Non è buonissimo. No, 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 non è buonissimo. Grazie.